Salve a tutti, il giorno dopo è ancora sfogo, non ho mai fatto video così, cioè intendo di sfogo dopo la partita, insomma il campionato Voglio solo dirvi quanto sono amareggiato e deluso da questa squadra E io sono sempre rosso nero dentro il mio cuore, ieri ho ricevuto molte critiche, non sul solo video, che è solo uno che perché bestemmiavo si è lamentato Ma per il resto, insomma i santarellini saranno, comunque per il resto io sto dicendo gente che mi diceva di cambiare squadra Perché io non davo dei ladri agli interisti, ma Damianista li odio a morte gli interisti, Inter merda e forza Milan sempre Ma che dovevo dire ieri, cioè sì magari non hanno vinto completamente con Meito, ma sempre più con Meito dell'Atalanta sono andati in Champions League L'Inter meritava il terzo posto, il Milan il quarto, così doveva finire, l'Atalanta non c'era proprio stare in Champions League Quelli sono i veri ladri, che cazzo ve la prendete a fare con gli interisti, sono Mianista, li odio più di come voi Cioè io sono Mianista nel cuore, perciò faccio sti video, perché sono dispiaciuto per i rossoneri Ma che cazzo per i miei rossoneri Ma che cazzo però Comunque, tornando al campionato Campionato del Milan, non per il finale, in generale era partito Non bene per quella crisi, ma in fondo eravamo sempre vicini al quarto posto Poi abbiamo fatto un ottimo inizio di seconda parte Metà pure, poi vi si è concluso malamente Ma la stagione del Milan quest'anno Se arriviamo quarti sarebbe stata buona Ma purtroppo, anche se siamo saliti di posizione Era veramente, cioè, non so come dirlo È stata pessima Non tanto per l'altra volta, perché in passato il Milan che poteva farci? 2017, settimo Però insomma era riuscito ad arrivare almeno alla zona decennia l'Europa League Di fronte all'Inter tra l'altro Poi che altro c'è? L'anno successivo, sesto Eh ma che potevamo fare con una squadra nuova? Completamente nuova, che cazzo potevamo fare? Poi, l'anno successivo Ah, cioè quest'anno, quinti Stiamo salendo, diciamo, stiamo migliorando Eh ma il cazzo Bisognava andare adesso in Champions League L'anno prossimo non ci andremo Le squadre si rinforzeranno E noi, con la UEFA addosso Al massimo faremo qualche cambio di centrocampo Ma verranno, se ne vanno quelli Verranno altri brocchi O magari, che ne so, qualcuno buono verrà pure Va bene Ma che cazzo vogliamo fare? Occorre il centrocampo nuovo Un attaccante e un difensore E via Donnarumma Questo serve al Milan E all'allenatore nuovo Perché Gattuso dicono Ha fatto i miracoli con la squadra che tiene Ma anche lui ha fatto i suoi errori Ma porco di quel Non voglio dire a te Bessimi Perché se no L'hanno il video di ieri Mi hanno bannato parecchi O come cazzo si dice Io veramente non so che dire C'è veramente Team UE che se ne andrà via dal Milan Bagaglio cosa sarebbe Per chi non ha capito il nome Ma porco di Ma porco Che facciamo stare guardate Non so più che che divi Ragazzi Per i follower di Eddeddy Usciranno altri Strisce che sto scrivendo Su di loro Scusate se li ho un po' trascurati Grazie per gli iscritti Spero che arriveremo a 200 Perché penso di meritare I 200 iscritti Per quello che sto facendo per voi Adesso per Eddeddy Farò un altro episodio Pubblicherò Un altro episodio Lo pubblico Quindi non vi preoccupate Io non vi ho dimenticati I follower di Eddeddy Ok Ok ragazzi Allora ci vediamo Forza Milan E speriamo Poi con Eddeddy Darò altri Non ho dimenticato I vecchi Eds Pubblicherò qualche altra puntata E vedrò di fare qualche altra striscia Alla Charles Schultz Non saranno lunghe Saranno cose brevi Ci sentiamo Un uomo distrutto sono E vedrò di fare qualche altra striscia E vedrò di fare qualche altra striscia